Signora, buongiorno, salve, mi dà del pane, per favore? Ah, che cosa le do? Cosa preferisce? Volevo del pane e cereali. Sì, quanti siete più o meno? Guardi, siamo in dieci persone e una cena questa sera, mi raccomando. Senta, le va bene questa pagnotta da un chilo, che almeno basta per tutti? Un chilo troppo, ma sta scherzando. Facciamo 4-5 pezzettini, sì. Magari poi li dividiamo e basteranno sicuramente per tutti. Sì, sì, ce ne abbiamo piccolini, va bene. Quante dico il chilo, mi scusi? 6,90. No, non li voglio più, lasci stare. Senta, ce n'ha dei panni normali? Facciamo dei panini all'olio, normali? All'olio, sì, va bene. Questi vengono 4 al chilo, quindi? Facciamo sempre 4-5, tanto poi dividendoli. Va bene. Sacco, ma non voglio buttare i panni. Certo, non ci mancherebbe. Per magari magari andranno in due. Va bene, va benissimo. Quanto pago? Ok, signora, sono 2,19. Bene, mi dà il centesimo di resto? Sì. Se sì, glielo do subito, un attimo che imbusto il pacchetto mio. Il centesimo? Un attimo solo che finisco lo scontrino e poi vedo il resto. Il centesimo. Ecco qua. Ma sono due centesimi. Sì, glielo regalo io. Ah, grazie. Ok, benissimo. Sei molto contenta, grazie.